Nulla da fare per i 5 quesiti referendari sul tema della giustizia che non raggiungono il quorum del 50 più in elettore richiesto per la loro validità. L'affluenza, secondo i dati definitivi resi noti dal biminale, è stata poco superiore al 20,9% nei 7903 comuni italiani, la più bassa nel dopoguerra. Ancora più basso il dato aretino, i referendum chiudono la loro corsa con un'affluenza alle urne sotto il 17%, dato sotto la media regionale che si attesta al 19,6%. In provincia di Arezzo, a parte due comuni impegnati anche nel voto per il sindaco Monte Sanzavino e Monte Mignaio, l'affluenza più alta è stata quella di Bagliate d'Alta, sopra il 19%. Il capoluogo invece si è fermato ad una media del 17,1%. I cinque referendum sulla giustizia ad ogni modo hanno registrato la chiara vittoria platonica del sì sui quesiti referendari. Per quanto riguarda il primo, quello sull'incandidabilità dopo una condanna di primo grado, ha vinto il sì con il 57,6% dei voti. Anche nel secondo quesito, quello sulla limitazione delle misure cautelari, ha vinto il sì con il 60,3% dei voti. Il quesito sulla separazione delle funzioni dei magistrati ha visto il sì raccogliere il 79,7% delle preferenze. Anche alla domanda sui membri laici nei consigli giudiziari ha vinto il sì con il 76,8%, mentre l'ultimo quesito, quello sulle elezioni dei componenti togati del Consiglio Superiore della Magistratura, ha conquistato il 78% delle preferenze.